Capolavoro dell'artigianato artistico locale è il presepe in materiali marini, opera appartenuta alla famiglia Pepoli e attribuita allo scultore trapanese Andrea Tipa, artista poliedrico, abile nella lavorazione di svariati materiali, dal lavorio all'alabastro alla conchiglia. Le figurine, sapientemente scolpite nell'alabastro locale, si distribuiscono all'interno di una suggestiva ambientazione che ha la forma di una montagna, ricca di grotte, anfratti e balze, realizzata con una grande varietà di materiali marini, concrezioni rocciose, gusci di conchiglie, girandole di corallo e madreperla, denti di pesce. In alto si profila la città turrita di Gerusalemme, cinta da poderose mura, dalla quale si muove il lungo corteo dei magi a cavallo, sontuosamente agghindati e scortati dai valletti. Tra le numerose rappresentazioni di scene di vita quotidiana spicca in primo piano la caccia al cinghiale, dinamicamente mossa e concitata. Sul lato destro è da notare l'uccisione del maiale e a sinistra la scenetta gustosamente realistica in cui un personaggio maschile minaccia con un coltello un gatto che ha appena addentato del formaggio. Il tipa dà il meglio della sua arte sia nell'originale ideazione della composizione d'insieme, di straordinario effetto scenografico, sia nel delineare i personaggi, resi con una singolare eleganza lineare, ben rifiniti nel dettaglio degli abiti, dei copricapi piumati e degli accessori.